Non è male, c'è di me che ma non è male, tutto qua, parlo mai Mario, ma figurati, figurati che diciamo qui siamo sulle stesse, ecco l'ultimo po' almeno, me lo dici dove è? Stiamo sulle stesse, non ho capito che ha fatto la nostra fabbrica, che ha fatto? La fabbrica? . . Uno mitra incontri . e poi avete tutto il finale perché non parlava di doppio tono parlava di due segnali e quindi è partito da lì la loro presa di petto e non mi è piaciuto per niente perché io quando sento le cacciate qui in radio non li prendo di petto non me ne può fregare di meno ascolto lo stesso quello che dicano e poi se sono fiori fioriranno se sono cacciate le vanno archiviate le caccia